Buongiorno a tutti i presenti, buongiorno ai partecipanti a questa conferenza, un ringraziamento al Presidente Emish, l'amministratore delegato d'Orsogna per l'ospitalità che viene offerta a questo importante evento. Oggi verrà firmato un accordo di collaborazione di natura sia strategica che operativa fra il CNR e la Regione Marche e quindi ringrazio anche il Dottor Campana che è qui presente in rappresentanza della Presidente Carrozza. Direi di iniziare subito, lascio la parola al Presidente Acquaroli per l'introduzione e l'intervento di spiegazione soprattutto dell'importanza strategica di questo accordo. Beh, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie di essere qua. Per noi questa mattina è una giornata molto importante, una mattinata molto importante perché l'accordo che stiamo per firmare con CNR, ringrazio l'ingegner Campana di essere qua con noi, è un accordo importante sotto molteplici punti di vista. Innanzitutto ci inorgoglisce perché CNR è sinonimo di eccellenza, è sinonimo di altissima specialità, è qualcosa che insomma porta sempre e comunque un grande valore aggiunto. E poter arrivare ad un accordo strategico è per noi un'opportunità, uno stimolo e anche una certificazione della volontà che esprimiamo di credere su progetti che possono portare valore aggiunto sul nostro territorio regionale. Quindi valorizzare il tessuto economico, valorizzare la formazione e valorizzare anche le nostre infrastrutture. È un tema a cui stiamo lavorando a 360 gradi. Quando si è aperta questa opportunità abbiamo veramente raccolto con grande entusiasmo l'idea di poter arrivare alla firma di questo accordo. Io chiudo veramente non solo ringraziando tutti quelli che sono seduti a questo tavolo ma anche ricordando l'importanza fondamentale per un territorio di essere competitivo e di essere attrattivo. Un territorio che non riesce ad essere attrattivo rimane un territorio permeabile a tutto e alla lunga rischia di perdere la sua competitività. L'attrattività è data dalla capacità di essere in grado di anche utilizzare tutti gli strumenti che si hanno a disposizione per portare appunto quel valore aggiunto. Io sono convinto che quella che firmiamo questa mattina per noi può essere una pietra migliare. E su questo oggi chiaramente è un accordo strategico. Su questo dobbiamo lavorare per capire come poi calare in tutte le parti che riterremo opportune le maggiori sinergie possibili con CNR. Ringrazio chiaramente l'aeroporto non solo per ospitarci ma per la collaborazione che sta facendo con la nostra regione e con il nostro tessuto. I risultati sembrano ormai in una direzione ottimale quindi bisogna continuare a lavorare sempre di più in questa direzione. Grazie e passo la parola a Dottor Becchetti. Ora la parola passa al Dottore Emilio Campana, direttore del CNR del settore ingegneria e in particolar modo del settore spaziale. Lo ringrazio anche personalmente perché il Dottor Campana ha dato un contributo veramente fattivo per la realizzazione e la conclusione di questo accordo. Grazie. Io ringrazio il Presidente della Regione, il Direttore dell'Aeroporto, il Presidente dell'Aeroporto, l'Assessore e ringrazio la Regione. Noi abbiamo come Consiglio Nazionale delle Ricerche abbiamo tre missioni fondamentali. La prima è quella di essere sempre sul fronte della qualità della ricerca di eccellenza. Il CNR nei ranking internazionali è tra i primi enti di ricerca governativi di tutto il mondo. Quindi la nostra competizione è sempre quella internazionale. La seconda missione fondamentale è quella di dare supporto scientifico e tecnologico al sistema Paese, quindi alle industrie del Paese, ai settori industriali più importanti per il nostro Paese. E questo, come capita bene, per il Dipartimento che si occupa di ingegneria, di informatica e di mondo digitale in generale è un impegno importante. E il terzo elemento, che è la nostra terza missione, è quello di dare supporto a tutte le amministrazioni centrali dello Stato e a tutti gli enti locali, perché il CNR è una struttura nazionale. Noi abbiamo più di 200 sedi in tutta Italia. Il mio Dipartimento ha 50 sedi distribuite in tutta Italia, da Trento a Messina. E questa struttura capillare all'interno del territorio fa sì che noi possiamo collegarci facilmente al lavoro che fanno i comuni, al lavoro che fanno le regioni e lavorare insieme a loro sul loro territorio. Per noi è una parte rilevantissima della nostra attività, che quindi non è soltanto quella di pubblicare ed essere all'altezza dei competitor internazionali, ma è lavorare con il Paese, dimostrare che la scienza può cambiare la qualità della vita in meglio delle persone, può aiutare il sistema imprenditoriale del Paese, può rendere il nostro Paese più competitivo. Noi sapete, siamo una grande manifattura, non abbiamo tante risorse naturali, ma siamo un Paese che ha una grandissima manifattura. oltre alla Germania, l'Italia è la seconda manifattura d'Europa. Le Marche sono la grandissima manifattura in Europa, è uno dei centri più importanti, dei distretti industriali più rilevanti. È un patrimonio per il nostro Paese e il CNR non può mancare di dare il suo aiuto e il sopporto a questa missione. Grazie direttore, ora la parola al Presidente Emish. È arrivato il Sindaco di Ancona. Sì, abbiamo il Sindaco di Ancona e lo salutiamo. La parola al Presidente Emish, lo ringraziamo sia per l'ospitalità di questa giornata, sia per il suo impegno a favore dell'aeroporto e a favore delle Marche. Scusami, ma è meglio parlare in inglese. Ciao, ciao. Sì, buono, sono Peoplei, prez ici a Mirza Capanna e Presidente Acquaroli. Nuo'ci, ho visto un anno all'in bubbio per l'aeroporto, per il regione Marche e per il Italia, ma anche per l'europe. Per essere capace da questa attività di attivare questo progetto. Quindi, grazie e grazie a noi. I think Alex will say a few words about our participation but you know we're here as the airport to support this exciting opportunity to create space, business and commerce in this region and for Italy and so thank you and welcome and we're very excited to support you over the coming years in this project. Grazie mille. Grazie Amish, intanto grazie al Presidente Acquadoli, grazie ovviamente soprattutto alla collaborazione del CNR nella persona dell'ingegnere Campana. Io vorrei fare un escursus di quello che sono oggi le potenzialità di questo accordo, questo è un accordo che oggi presentiamo e firmiamo tra la regione Marche e il CNR che delinea un percorso, una pietra migliare direi, di un percorso che porta la regione Marche, l'aeroporto verso le eccellenze nazionali e internazionali in materia di aerospazio, questo sostanzialmente significa poi coerentemente creare le condizioni affinché degli progetti tecnico scientifici possono poi essere avviati e valorizzati al fine di creare le condizioni per un indotto economico industriale che direi enorme, mi piace direi proprio dirompente per la regione, perché giustamente come evidenziato prima dall'ingegnere Campana, questo è un territorio che nel mondo rappresenta quello che è il Made in Italy, le famose tre F del Made in Italy sono le Marche, Food, Fashion and Furniture, è tutto il contesto che ne consegue. Da un punto di vista direttamente aeroportuale questo significa avviare un percorso di valorizzazione di quello che è il profilo infrastrutturale di questa azienda, un'azienda che ha lato infrastruttura tre grandi caratteristiche di profilo infrastrutturale direi che la rendono differenziabile dagli altri, la prima è la pista, una pista di tre chilometri che per un aeroporto piccolo e medio è un unicum, due la vicinanza al mare, tre l'assenza di barriere urbanistiche importanti in un raggio di 10 km, tutte queste caratteristiche rendono possibile quello che è poi l'attivazione concreta delle attività che il CNR mi insegna, ormai sono un esperto anch'io, l'attività di aviolancio, attività di aviolancio che praticamente concretamente cosa significa? Significa creare condizioni di sistema affinché si possono lanciare in orbita dei microsatelliti a uso poi industriale. Questo è evidente che è il cuore dell'accordo e ci permetterà insieme di costruire le condizioni attraverso l'alloranza e a livello di operazioni creare le condizioni affinché il veicolo da suolo utilizzi infrastrutture italiane e quindi lato paese ci permette di aprire una prima porta, una prima finestra di autonomia e di accesso allo spazio. Direi che gli obiettivi sono enormi, sono grandi e è un percorso ovviamente che inizia oggi, un punto di partenza, che poi ovviamente compatibilmente con tutte le normative che dobbiamo rispettare, ci porterà a individuare un posizionamento diverso da quello che è oggi l'Europorto di Ancona con la collaborazione del CNR e il supporto magistrale del Presidente Acqualori. Grazie. Grazie Alex, sia per l'ospitalità ma soprattutto anche per l'impegno profuso per sviluppare e per concretizzare questo accordo. Ora la parola all'assessore alle infrastrutture della regione Marche, Francesco Bandelli. Grazie, un saluto a tutti gli ospiti che ci hanno raggiunto qui nelle Marche e è un motivo di orgoglio per quello che sta facendo il Presidente Acqualori con la sua squadra perché nessuno credeva in un rilancio delle nostre infrastrutture strategiche. Quando parliamo di infrastrutture strategiche parliamo del triangolo porto, aeroporto, interporto delle Marche e l'interesse che oggi rappresentiamo anche dell'industria aerospaziale, dell'eccellenza dell'industria aerospaziale italiana per questo aeroporto, dice che siamo nel giusto. Insieme al Presidente Acqualori, anzi vorrei dire la delega specifica del Presidente Acqualori, stiamo sbloccando le Marche, lo stiamo sbloccando con i voli di continuità, con una corretta anche gestione della società di questo aeroporto, stiamo sbloccando l'interporto, stiamo ottenendo investimenti molto importanti sul porto. Perché dico questo? Perché l'idea di questa giunta è non solo aver intercettato il corridoio longitudinale europeo che prima arrivava nelle reti identi a Ravenna e oggi arriva a Dancona e questo significa attrarre anche i finanziamenti dell'Unione Europea, ma stiamo studiando anche un corridoio diagonale grazie alla presenza dell'aeroporto in questa regione che colleghi i Balcani attraverso il mare Adriatico con il porto di Ancona, l'aeroporto di Falconare all'interporto di Iesi e poi raggiunga il corridoio atlantico. Stiamo ragionando di questo e non lo potremmo fare se non grazie al rilancio che si sta concretizzando della piattaforma logistica intermodale della nostra regione il cui cuore è rappresentato anche da questo aeroporto. Grazie, grazie per questa nuova occasione per la nostra regione e per la nostra comunità regionale. Bene, ora prima della procedura formale di firma dell'accordo tra il Presidente Acquaroli e il Dottor Campana, la parola per le conclusioni all'assessore regionale all'industria, alla ricerca dell'innovazione della regione Marche, Andrea Antonini. Se non ci sono infrastrutture di elevata efficienza, se non si investe appunto sul potenziamento della nostra rete infrastrutturale dove l'aeroporto ovviamente come ricordato rappresenta uno dei punti cardini, non c'è neanche sviluppo economico, le nostre imprese non possono neanche aumentare quel grado di competitività che è assolutamente richiesto in questa fase di grandi transizioni digitali e tecnologiche verso l'innovazione, bisogna assolutamente essere capaci di utilizzare tutto quello che è appunto la buona gestione anche di un territorio e ringrazio anche io il Presidente Acquaroli per questa grandissima intuizione anche del rilancio dell'aeroporto come sta lavorando veramente bene il nostro amministratore d'Orsogna, è visibile sotto gli occhi di tutti, c'è una grande attenzione a quelle che sono le potenzialità di un territorio che purtroppo ha avuto un'assenza di accessibilità e l'accessibilità è veramente molto anche per l'imprenditoria, dà fiducia, dà speranza e dà la possibilità di investire. Allora questo accordo con il CNR rientra assolutamente verso una strategia anche industriale legata all'innovazione e più in generale proprio all'investimento sulla space economy che la Regione Marche sta seguendo in linea anche con le indicazioni e le politiche nazionali. Proprio ieri abbiamo avuto il Ministro Urso che ha parlato di una nuova legge che riguarda proprio l'aerospazio, ha indicato anche le nuove rotte rispetto agli investimenti che tra pubblico e privato bisogna iniziare a stabilire in maniera importante verso queste prospettive dell'aerospazio, anche perché quando si parla poi di aerospazio non è solamente quelle magnifiche sogni, spesso anche quelle visioni che abbiamo, ma è anche una possibilità di utilizzare determinati strumenti come una rete satellitare che controlla e governa anche il nostro territorio dall'alto. Una rete satellitare che può anche vedere, programmare, capire, leggere il territorio nella regolamentazione delle acque e dei territori utilizzata anche verso l'agricoltura, verso un'agricoltura di precisione che sa appunto leggere e mappare bene il territorio. Quindi sono anche diversi utilizzi che si possono fare. A livello regionale noi abbiamo un cluster di imprese, sono circa 20, che lavorano soprattutto e sostengono la politica, la spesa economica attraverso il lavoro dei materiali e delle nanotecnologie. Io proprio questa mattina ho invitato Marcello Azzoni, Marcello Azzoni è il CEO di Spaceware, che è una importante azienda marchigiana, è l'azienda che ha creato la tuta spaziale dell'astronauta Villadei, che ha appena volato con il volo della Virgin Galactic, una tuta che non è solamente un bellissimo accessorio estetico, ma era una tuta dotata di tutta una serie di parametri biometrici, proprio per leggere anche e dare dei importanti parametri del corpo medicali, come risponde appunto il corpo dell'astronauta in una condizione particolare come quella del volo. Allora le marche sono già pronte per accogliere la sfida di questa nuova possibilità, di questa nuova prospettiva e ovviamente lavorare a fianco del CNR con anche la base che di fatto abbiamo nel tempo qui costruito è qualcosa di veramente sfidante. Quindi l'idea e diciamo l'obiettivo finale è quello veramente di creare un bel polo legato all'aerospazio qui nelle Marche. Quindi grazie e buon lavoro a tutti. Bene, prima della firma se l'amministratore delegato Orsonia vuole chiudere essendo anche il padrone di casa. Grazie Alex. Grazie a voi. Io aggiungo solo un sentito grazie a tutti. È un percorso che iniziamo come come aeroporto, come regione, come CNR su questo magnifico territorio e anche grazie all'appoggio e alla collaborazione di tutti gli stakeholders. Credo che il dato è tratto, come si dice. Grazie a tutti. Bene, grazie Alex. Grazie Presidente Emish. A questo punto si può procedere alla procedura di firma. Grazie a tutti. Bene, grazie a tutti. Buona giornata e grazie per la vostra partecipazione. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.